Il responsabile dell'area tecnica del Catania, Vincenzo Guarini, presenta il nuovo allenatore rossazzurro Francesco Baldini. Oggi possiamo presentare il nuovo allenatore del Catania e veramente con piacere che presento Francesco Baldini. Lui da un punto di vista tecnico non ha bisogno di presentazioni perché ha giocato, penso che è nato col pallone in mano e ha giocato tutta la vita a calcio anche a livelli molto molto importanti, dunque sappiamo di quale materia stiamo parlando. Da allenatore, beato lui, non è da tanti anni perché ha giocato talmente tanto fino a tarda età che ha dovuto per forza di cosa cominciare a una certa età. Però noi cercavamo un allenatore che non avesse tante richieste strane da fare alla società. Avevamo bisogno di uno che trasmettesse entusiasmo non solo prima di tutto alla squadra, ma anche a noi dell'entourage perché eravamo un pochino magari dispiaciuti per il momento che stiamo attraversando e per quel poco che ne capisco io c'ha tutti i requisiti per poter farlo. Poi mi piace anche l'idea che magari dico una cosa non tanto piacere ma che non ha creato problemi sul contratto e si è messo in discussione anche lui. È una scommessa anche la sua e la vuole vincere e più contenti di lui saremo noi. Dunque è veramente con piacere che lo accolgo e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, avendo fatto tanti anni questo mestiere, allenare il Catania se ne accorgerà. È molto impegnativo ma è anche molto 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 gratificante. Dunque tutti noi dalla società gli rivolgiamo un grandissimo in bocca al lupo che crepi il lupo e speriamo di ritrovarci qui magari con uno stato d'animo diverso fra un po' di tempo.